La Toscana celebra la festa dell'Europa con una seduta solenne del Consiglio regionale, celebrazioni sobrie dettate dalla pandemia di Covid, ma vissute con lo spirito di rinascita che accompagna questa fase pensando al futuro dell'Europa post-Covid. Dal Consiglio riunito oggi è partito il messaggio di essere e sentirsi sempre più cittadini europei, l'obiettivo di Robert Schumann quando il 9 maggio del 1950 pronunciò le parole che hanno rappresentato la scintilla del processo che ha portato alla nascita dell'Europa a oggi. L'Europa è il nostro punto di riferimento, da un punto di vista anche concreto nella percezione della gente oggi che si parli di vaccino e magari non troppo in positivo rispetto alle modalità con cui l'Europa ha fatto le sue contrattazioni a livello internazionale. O che si parli di recovery fund, qui veramente in positivo perché la speranza della ripresa e della ripartenza nasce da questa iniziativa che partita con il protocollo sui 209 miliardi del luglio scorso firmato dal Presidente Conte diventa l'elemento per la ripresa, la ripartenza del nostro Paese. L'Europa è sempre più nelle case dei nostri cittadini. Durante la seduta solenne è stato proiettato un video di saluto da parte del Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, che ha voluto sottolineare come la pandemia non può essere una parentesi ma deve essere considerata un'occasione per cambiare, per progettare insieme un futuro più giusto con meno disuguaglianze. L'Europa è cruciale nella vita di tutti noi e sempre più deve essere un'Europa che si integra, che parla alla gente, sempre più un'Europa che le decisioni le prende come Europa dei popoli, non come Europa degli Stati.